La Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Portempedocle, ha diffuso il bilancio delle attività svolte nell'ambito dell'operazione denominata Fenix 4, che per circa un mese ha visto impegnati i militari in attività di controllo sulla filiera della pesca. Nell'operazione hanno dato il loro ausilio anche i medici veterinari dell'ASP di Agrigento. Passando ai numeri di Fenix 4, sono stati 69 i controlli effettuati, di cui 19 a terra e 40 in mare. Impegnati 32 militari, 3 unità navali e 3 mezzi terrestri. Le irregolarità riscontrate hanno prodotto 10 sanzioni amministrative per un totale di oltre 20.000 euro e il deferimento alle autorità giudiziarie di 6 persone. In 5 casi sono scattati dei sequestri che nello specifico hanno riguardato un'imbarcazione da traffico, un verricello e circa 250 metri di reti da posta di tipo tremaglio. I controlli hanno portato anche alla distruzione, poiché ritenuto non idoneo al consumo umano, di circa 20 kg di prodotto ittico. Sul fronte tracciabilità ed etichettatura, i militari e gli ordini del comandante Massimo Di Marco hanno anche sanzionato i titolari di due pescherie a Canicattì, una a Naro e due venditori ambulanti ad Agrigento. A Portempedocle, invece, è stato scoperto e sanzionato un pescatore abusivo. È il proprietario di un'imbarcazione che, nonostante l'avvenuto disarmo del natante, lo utilizzava in attività di pesca. Infine, i titolari di due ristoranti ubicati rispettivamente a San Leone e Castrovilippo sono stati deferiti alla Procura della Repubblica per il reato di frode in commercio.